Forse la migliore Atalanta della stagione? Forse la migliore Atalanta della stagione è una prova importante per noi. Due cose, una sul mercato, se ti ha fatto piacere le richieste dagli altri club e se in fondo un piccolo pensiero all'Azzurro lo fai? Azzurro inteso come nazionale italiano ovviamente. Sì, ormai ci sono abituato, quando gioca il mercato qualcosa c'è sempre su di me, alla fine non c'è mai niente di concreto. O magari se c'è non si arriva mai a... quindi all'inizio un po' l'accusavo, invece adesso sono anche più maturo sotto questo punto di vista e con certe voci me le lascio anche scivolare addosso. Per quanto riguarda la nazionale devo dire che ci sono tanti giocatori che in questi anni sono stati convocati da Prandelli, che hanno fatto un ciclo importante e che soprattutto hanno più esperienze internazionali di me. Quindi è difficile, anche se devo dire che il nazionale penso regni il merito, quindi se uno merita può arrivarci, quindi perché no? Grazie. Grazie.